Domani venerdì 6 ottobre alle ore 16 scade il termine di presentazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale. Polemiche sul listino musumeci. Il caso Gaetano Armao. L'intervista a Gianfranco Miciche oggi ad Agrigento. Irene Milisenda. È un finale di partita tribolato. La corsa verso il deposito delle liste dei candidati all'Assemblea regionale e delle estini collegati ai candidati presidente della regione è sempre più caratterizzata da scontri e polemiche. Il termine ultimo scade domani venerdì 6 ottobre alle ore 16 ad un mese esatto dal voto del 5 novembre. E in casa centodestra sono in sorte gravi difficoltà di rapporti tra cento e destra a causa della paventata esclusione di Gaetano Armao dal listino del candidato presidente Nello Musumeci. Ossia dalla lista dei sei candidati deputati, tre uomini e tre donne, che se eletto il presidente saranno eletti anche loro a sala d'Ercole automaticamente. A prescindere da quanti voti ricevano alle urne. E al mattino di oggi l'avvocato Gaetano Armao ha convocato una conferenza a Palermo. Il tandem con Musumeci al momento non è cancellato ma confermato. E Armao tra l'altro ha affermato. Ho inviato un'email a Silvio Berlusconi e lo sentirò nelle prossime ore. A me viene chiesto un ulteriore sacrificio. Scioglierò la riserva nelle prossime ore. Sono stati gli alleati ad avere violato il patto siglato all'inizio di settembre. Il ticket è frutto di un accordo. Il presidente candidato Musumeci ha ritenuto di non rispettarlo. E poi nel listino ci sono saltafossi che hanno votato e sostenuto Crogetta, che hanno appoggiato il disastro del governo uscente fino all'altro ieri. C'è un supplemento di rigore da rispettare anche nella composizione delle liste. Così si allontana la gente. Occorre un rilancio della coalizione. Da oggi il ticket con Musumeci ha un'altra veste. Innanzitutto torna a rivendicare la vicepresidenza e la delega all'economia accompagnate imprescindibilmente dalla programmazione. Nel frattempo oggi Gianfranco Miciche ad Agrigento per incontrare Forza Italia Agrigentina e concludere le ultime operazioni relative alle liste. No, il problema più che di Almao è della candidatura di Agrigento nel listino che non c'è stata rispettata e che ci ha creato veramente dei problemi. Perché noi avevamo, per tutta una serie di motivazioni, che poi si possono anche spiegare, non credo che sia che interessi a tutti gli agrigentini, ma io avevo combinato le cose in modo tale per cui il listino venisse dato ad Agrigento, perché ci serviva. Ci serviva per Palermo e ci serviva per Agrigento. E quindi eravamo ben felici di fare questa cosa. Devo dire inopinatamente, il candidato alla presidenza della regione si è assunto una responsabilità che per la mia volta è la storia della politica. Io ho visto assumersi a qualcuno, perché normalmente i partiti dicono che sono quelli che andanno sul listino, a meno che non ci fossero, come dire, mafiosi, delinquenti, non si capisce quale poteva essere il motivo per non accettare. Invece il Presidente della regione ha ritenuto che nell'estino ci dovesse andare chi diceva lui. È una ferita che si è aperta nel rapporto tra me e il Presidente della regione, questo è il futuro Presidente della regione, e che spero, come ho detto in un comunicato oggi, che spero possa essere ricuscito al più presto, perché è qualcosa che nel riferimento di forza Italia non siamo abituati a subire. Oggi sono di nuovo qua da Agrigento, invece che essere in campagna elettorale a Palermo, perché ho voluto spiegare quello che è successo a tutti i nostri amici di Agrigento, e perché insieme a loro si possa trovare una soluzione. È evidente che forza Italia farà tutto quello che serve per aiutare la lista di Agrigento, per aiutare Riccardo Gallo, per aiutare il coordinatore provinciale e tutti gli altri. Ed è evidente che la prima cosa che devo mettere a disposizione del partito è uno di quegli assessorati che avremo con la vittoria, sperando che ci sia nonostante tutto, di Musumeci alla regione siciliana. Per cui inizio ora questa riunione con loro, ma quello di cui pregherò tutti è di avere ancora fiducia in forza Italia, di continuare a restare nelle file di forza Italia, di candidarsi con forza Italia, che è l'unico vero partito che esiste nel centro-destra, diciamolo in maniera chiara ed evidente, è l'unico partito che crea progetti per il futuro, è l'unico partito che resterà alla fine di questa campagna elettorale, per cui io parlerò con tutti e li pregherò di continuare a seguirci.